Apriamo la pagina dedicata al coronavirus. Dopo i vaccini, crollano i contagi tra operatori sanitari e over 80 in Puglia. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Intanto è in fase di ultimazione l'allestimento del lab vaccinazioni all'interno della Fiera del Levante di Bari. Sentiamo. Da ieri in Puglia è possibile utilizzare i farmaci anticorpi monoclonali per il trattamento dell'infezione virale da Covid-19. Lo ha comunicato il direttore del Dipartimento regionale di promozione della salute Vito Montanaro. Gli anticorpi monoclonali anti-Covid saranno forniti direttamente dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus e verranno stoccati nella farmacia ospedaliera dell'ospedale di Venere dell'ASL di Bari che fungerà da magazzino centralizzato per tutte le strutture ospedaliere regionali. L'individuazione dei pazienti da trattare spetta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alle unità speciali di continuità assistenziale, mentre la prescrizione e la somministrazione avverranno nei centri ospedalieri autorizzati dalla regione. Intanto il piano vaccinale in Puglia procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini e i primi effetti sulla pandemia già si osservano. È crollato il numero di casi fra gli operatori sanitari e i casi fra gli ultra-ottantenni sono per la prima volta inferiori a quelli registrati nelle fasce di età più giovani. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco per cui il sistema pugliese è pronto per somministrare fino a 50.000 vaccini al giorno. La settimana si è aperta con una nuova consegna di vaccini da parte del governo centrale. Sono arrivate infatti 79.560 dosi del Pfizer. Invece alle 17.30 di ieri sono stati 31.357 i pugliesi over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e si procede in tutte le province anche con le domiciliari. In totale in Puglia è stato somministrato l'86,6% delle dosi consegnate, 98.673 a personale scolastico e forze armate. Le prime dosi a queste ultime due categorie effettuate principalmente con AstraZeneca sono state quasi completate del tutto. In settimana si recupereranno anche le vaccinazioni sospese la scorsa settimana a seguito del momentaneo blocco di AstraZeneca e poi riprogrammate. E in fase di ultimazione l'allestimento del Lab Vaccinazioni all'interno della Fiera del Levante di Bari, ASL, Dipartimento di Prevenzione e Protezione Civile, sono al lavoro per attivare nel corso di questa settimana le prime postazioni del Padiglione 7 destinato alle vaccinazioni di massa. L'Opalco ha spiegato che il Lab Fiera potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia che saranno circa 60. Intanto nel bollettino di ieri i positivi sono stati 844 a fronte di 4.866 test con un tasso di positività pari al 17,3%. Gli attualmente positivi sono 42.990.